Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto in compagnia di Gerli, concessionaria Hyundai. Eccoci qua Rosi, ben ritrovata. Grazie. Allora, io sono Antonio, siamo a Milano in Viale Fulvio Testi 22. Allora Rosi, io incomincerei subito con la nostra city car di casa Hyundai. Sì. Nuova in tutto, nuova i10, nuova nella sicurezza, nuova nel design. Oggi la sicurezza nelle automobili è tutto. Infatti già da subito nel modello di ingressi la nuova i10 è dotata di tutti i sistemi di sicurezza attivi con l'anticollisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni, mantenimento della corsia, rilevamento della stanchezza, iberg, bluetooth, clima, stereo. Con permuta e rottamazione, i10 può essere tua a partire da 12.300 euro, con finanziamento ai plus, con rate da 99 euro. 99 euro. Una rata piccola piccola per una vettura che è considerata la più piccola di casa Hyundai, ma assolutamente offre tantissimo, come ci ha detto Antonio. Venite a conoscerla e a provarla. Ed ora proseguiamo. Allora Rosy, passiamo al segmento B di casa Hyundai, nuova Hyundai i20, 1.284 cavalli e 1.000 turbo benzina 48V Hybrid. Anche i20 è da subito super accessoriata. Apple CarPlay, Android Auto, anticollisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni, mantenimento della corsia, clima, bluetooth, comandi audio al volante, telecamera di parcheggio e sensori. Con permuta e rottamazione, Hyundai i20 può essere tua da 13.500 euro, con delle piccole rate da 149 euro. Bene, io direi naturalmente di venire qui per parlare con Antonio e con gli altri collaboratori, per conoscere i dettagli di queste promozioni, di questi finanziamenti, ma soprattutto i dettagli di questa splendida event. Scusa Rosy, se ti interrompo, possiamo fare anche dei test drive. Perfetto. Soprattutto. Bene, abbiamo visto i 10 e i 20 e adesso passiamo sicuramente a uno dei segmenti che è più iconico e sicuramente uno dei più apprezzati e amati in casa Hyundai. E quindi parliamo di SUV. E che SUV? Certo, Rosy. Allora, non perdo tempo nel presentarti la nuova Hyundai Tucson. Nuova Hyundai Tucson, ma nuova in tutto. Nuova nella motorizzazione, nuova nella sicurezza, nuova nella tecnologia, nuova nel design. Possiamo avere nuova Hyundai Tucson sia nella versione MyLiBrid, con un motore da 1.6 turbo benzina da 150 cavalli, sia un motore sempre 1.6 full hybrid da 230 cavalli. Oggi possiamo avere nuova Hyundai Tucson con permuta o rottamazione a partire da 25.900 euro con delle rate da 289 euro. Bene, ho sentito, anzi, avete sentito un prezzo davvero straordinario. Antonio vi ha parlato naturalmente dalla motorizzazione. Avete sentito o MyLiBid hybrid oppure full hybrid. Quindi questa è già una cosa molto importante. Ma poi è una vettura ricchissima di accessori. Insomma, basta dare un'occhiata dentro. È davvero una vettura che vi offre tantissimo. Non vi descriviamo tutti gli accessori, ma vi invitiamo a venire a conoscerla personalmente. Assolutamente sì, Rosy. Come i fari full LED, clima tre zone, telecamere di parcheggio, sensori anteriori, sensori posteriori. Ok? Quindi una diva, si può dire diva, nel suo segmento. Antonio, qui siamo davvero, credo, già proiettati nel futuro. Infatti vedo una linea molto futuristica di questa nuova vettura. Sono due frontali completamente diversi. Ma ora capirete perché? Perché parleremo di motorizzazione, anche queste proiettate nel futuro, accanto alle classiche naturalmente. Perché c'è l'opportunità di scegliere quello che desiderate voi. Ma Antonio, raccontacela tu. Assolutamente sì, Rosy. Qui parliamo del futuro, come dici te. Nuova Hyundai Kona. Elettrica, ibrida, MyLiBrid. Io la definirei elegante e raffinata, Rosy. Tecnologia all'avanguardia, minori emissioni di CO2 e maggiore efficienza nei consumi. Grazie a questi nuovi motori, quindi tutta la sicurezza massima, tutta l'assistenza possibile, la tecnologia, quindi schermo touch da 10 pollici, telecamere posteriori, Android, Apple CarPlay. Rosy, pensa, questa vettura elettrica può raggiungere quasi 500 km di autonomia. Sono tantissimi, 500 km vuol dire veramente fare dei lunghi viaggi completamente in elettrico, per cui risparmiando tantissimo, anche per quanto riguarda l'inquinamento, perché è veramente emissioni zero praticamente. Questa versione invece? Rosy, questa versione è la sorella, come puoi vedere, ma è full hybrid, quindi un motore 1.6, 141 cavalli, cambio automatico o sequenziale, a 6 rapporti dopo frizione, anche lei nuova, nuovissima, nuova nella linea, nuova nella tecnologia. Bene, ecco, quindi abbiamo visto, elettrica, hybrid, ma esiste anche nella motorizzazione benzina, perciò direi che Kona vi offre veramente l'opportunità di essere scelta da qualunque persona. Volevo dirti che è un'anteprima, Rosy, questa. Eh, sì, sì, è un'anteprima assoluta, io è la prima volta che la vedo e ti dico la verità, mi ha colpito molto la sua linea. Soprattutto di questa qui, elettrica, quindi vi invito a venire a vederla personalmente, perché no, anche a provarla, perché credo che la sensazione di provare una vettura elettrica silenziosa totalmente sia davvero unica. Quindi se ci state pensando, se state pensando di acquistare una vettura elettrica, venite a provare anche la nuova Kona. Antonio, abbiamo visto parte della gamma nuova, naturalmente Hyundai, e sappiate che potete usufruire, come avete anche letto in sovraimpressione, di eco-incentivi statali e anche di bonus, naturalmente, di casa madre Hyundai. Ma per chi non ha una vettura da rottamare o da permutare? Assolutamente sì, Rosy. Mai, come in questo momento, abbiamo pensato a tutti quelli che non hanno una vettura da rottamare o da dare in permuta. Abbiamo immatricolato, Rosy, oltre 20 auto a chilometro zero. E adesso vi cito alcuni esempi, nei quali abbiamo inserito tutti i contributi previsti dal costruttore, per ogni singolo modello, compresi i contributi statali, ove previsti, chiaramente. Assolutamente sì, quindi voi, anche se non avete la vettura da rottamare, potrete usufruire di tutti quelli che sono gli incentivi e quindi gli aiuti che vi dà lo Stato per acquistare la vettura. Acquistando una vettura che è completamente nuova, è solo targata, ma non ha mai circolato. Perciò, meglio di così, insomma, diciamo che Gerli ha pensato proprio a tutti, eh Antonio? Ha pensato a tutti questo mese. Perfetto, andiamo a vedere qualche esempio? Assolutamente sì. Hyundai i25 porte Econex Connect Line, prezzo di vendita 19.575 euro, proposta a chilometro zero 15.600 euro. Un piccolo anticipo di 1.900 euro, 36 quote da 158 euro. Diamo anche il valore futuro garantito di 9.870 euro. Hyundai i20, 1.284 cavalli, GPL. Clima, Bluetooth, comandi audio al volante, sensori di parcheggio, telecamera Android, Apple CarPlay. Bene, e poi ricordo ancora, sottolineo quello che hai detto, una vettura con alimentazione GPL, a un prezzo davvero straordinario. Allora, continuiamo Rosi con una introvabile Kona Full Hybrid, X-Tech, con anticollisione frontale, sempre chilometro zero. Quindi telecamera di parcheggio, sensori Android, Apple CarPlay, clima automatico. Prezzo di vendita 28.175, prezzo chilometro zero 20.900 euro. Con un piccolo anticipo di 2.900 euro, abbiamo 36 quote da 207 euro. Valore futuro garantito, 12.950 euro. Abbiamo raggiunto questo prezzo grazie a tutti gli incentivi di casa madre e statali. Infatti è un ottimo prezzo, mi raccomando, approfittatene, perché ci sono 20 auto, hai detto, chilometri zero. Circa 20 auto. Ecco, circa 20 auto e poi dopo sono finite, quindi approfittatene subito. Rosi, ultime unità. Tucson 1.6 Cerediai. Cambio automatico full optional. chilometro zero, prezzo di vendita 36.125, proposta Gerli, chilometro zero, 28.000 su strada. Anche qui un piccolo anticipo di 3.900 euro, 30 serate da 283 euro. Il valore futuro garantito, 17.150. Abbiamo anche alcune unità, 1.6 benzina GDI, 132 cavalli, sempre a chilometro zero, prezzo di vendita 27.861 euro, proposta chilometro zero, prezzo finale 20.500 euro, piccolo anticipo di 2.900 euro, 36 quote da 208 euro. Anche qui, valore futuro garantito di 12.600 euro. Ultimissime, Rosi. Kona Full Electric, sempre a chilometro zero, allestimento full. Prezzo di vendita 41.120 euro, prezzo Gerli, chilometro zero, 23.300 euro. Un piccolo anticipo di 3.900 euro, 36 quote da 193 euro. Notate bene il prezzo di vendita e il prezzo del chilometro zero, perché c'è veramente un risparmio straordinario su queste ultimissime Kona. Hai detto assolutamente bene, Rosi. C'è un grandissimo risparmio e sono le ultime, quindi affrettatevi. Allora, per chi non desidera, Rosi, una vettura elettrica, come abbiamo visto, una vettura full hybrid, abbiamo pensato anche a matricolare vetture 1000 turbo benzina, sempre a chilometro zero, ok? Full optional, quindi con diversi pacchetti di serie. Il prezzo di vendita è di 25.925, nostro prezzo, chilometro zero, 20.300 euro. Anticipo piccolo, 2.900 euro, 36 quote da 205,50 euro. Il valore futuro garantito della Kona è di 12.400 euro, quindi molta possibilità fra tre anni di poter tenere l'auto, sostituire l'auto o lasciare l'auto. Bene, venite naturalmente a chiedere altre informazioni e soprattutto approfittate perché in questo caso di queste Kona ce ne sono solo tre. Rosi, continuiamo con una delle vetture più belle del segmento C, nuova Hyundai i30, 1000 turbo benzina hybrid, pacchetto N-Line, Vettura anche questa a chilometro zero, col prezzo di vendita a 30.070, prezzo chilometro zero, 23.800 euro. Anticipo 2.900 euro, 30 serate da 235,50 euro. La nuova i30 ha un valore futuro garantito di 14.280 euro. Allora Rosi, per chi fa invece tanti chilometri, abbiamo nuova Hyundai i30 1600 turbo diesel 130 cavalli, sempre con allestimento hybrid, batteria da 48V. Prezzo di vendita a 32.075, prezzo chilometro zero, 24.900 euro. Anche qui un piccolo anticipo di 2.900 euro, 36 quote da 259 euro. Il valore futuro di questa macchina è di 15.600 euro. Allora Rosi, abbiamo presentato alcune delle nostre auto, ne possiamo, potete trovare altre sul nostro sito Hyundai Gerli, sulla nostra pagina Instagram, su Facebook. E poi venite a trovarci insomma. Direi che questo naturalmente è l'invito, seguite tutti i social, ma la cosa principale, la cosa migliore è venire qua personalmente e parlare con Antonio e con gli altri collaboratori. Grazie Antonio, alla prossima e grazie a tutti voi. Ciao. La vetrina dell'auto Grazie a tutti.